Le migliori idee vengono quando tutti se ne vanno, la fabbrica resta vuota. Guardando al cielo vedi un segno, lassiato da un aereo in volo. Una linea curva, una dritta, una obliqua. Un segno dopo l'altro ed il prodotto prende forma. Linee semplici, pulite, armoniose senza tempo. Raccordi accuratamente studiati nei minimi particolari. Cornici sottilissimi, quasi impercettibili, che lasciano il segno. Curve avvolgenti che ti abbracciano. Sono ciò che serve, niente di superfluo, per dare leggerezza. Una piuma, un guanto, una bella sedia che invecchia con te. Nene. Grazie. 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 Grazie.